Qui siamo sul Torrente Castro e in particolare in prossimità delle casse d'espansione, una delle opere gestite dal Consorzio, tra le più importanti, a presidio della città di Arezzo. Il Consorzio gestisce queste opere idrauliche proprio per garantirne nel tempo la funzionalità, attraverso interventi che vengono realizzati annualmente. In questo momento il Consorzio sta realizzando un intervento localizzato proprio a valle dell'opera di derivazione delle casse d'espansione, dove è presente un fenomeno erosivo che nel corso del tempo si è aggravato e che proprio durante la manutenzione eseguita in quest'estate è stata verificata lo stato di aggravamento di questo fenomeno che ha causato il formarsi di una buca, chiamiamola così, a valle dell'opera di derivazione e di un franamento delle opere di protezione delle sponde all'interno dell'albio del Castro. In questo momento vengono posizionati in opera i massi di nuova fornitura, dei massi ciclopici che hanno un peso fino ad oltre 3 tonnellate, che verranno adeguatamente posizionati e adagiati proprio per andare a rispristinare lo stato iniziale dell'opera di derivazione del corso d'acqua.